Ehi ma quello è uno squalo oppure un airdrop? Mi sembra uno squalo in acqua, vedi? Ma quello è uno squalo, è vero, è vero Nella challenge di oggi proveremo a vincere una partita utilizzando soltanto il loot degli squali Infatti guardate, abbiamo le skin perfette per questa challenge Sarà una sfida complicata, gli squali ti possono dare armi vergognose come armi bianche, armi verdi Ma anche dei lanciarazzi viola e armi leggendarie Proprio nella partita di prima io sono riuscito a trovare un lanciarazzi leggendario Prima però vi ricordo di supportarmi come creatore nel negozio oggetti E di taggarmi su Instagram quando shoppate Perché dobbiamo assolutamente arrivare a 250.000 persone che mi supportano durante questa season Vi dico che siamo a 170.000 e ce la dobbiamo assolutamente fare Perché utilizzerò anche i 48.000 V-Bucks che ho in questo momento per fare regali durante tutta la season Ragazzi ci stiamo buttando in un posto sperduto della mappa per trovare gli squali Lasciate un like mi raccomando se ancora non l'avete fatto per altre challenge Vi do 3 secondi 3, 2, 1 Ma ora io qua non vedo nessuna pinna a nuotare per... Eh no, non vedo niente io Mi sa che ci siamo buttati in un'isola completamente sperduta Lo squalo signori L'hai trovato? Sì sì però ci stanno nemici Ok allora aspetta che arrivo a nuoto da te Sperando di non essere mangiato Speriamo bene Sto per prendere il motoscafo e arrivo subito da te Squaletto dove sei? Ti veniamo a prendere Non è che l'hai perso di vista vero? No no sto qui davanti Ok Forse Tieni che donna spinta Scendo qui? Qua qua Ah ok ok Arrivo Ha girato qua Qualettino Eh Aspetta che ci sono nemici lì eh Eh sì D'ho andato scusa eh Stava qua adesso Eccolo E' di qua Eccolo è andato di qua Ma guarda questo squalo come sca... Eh ma guarda i nemici pure Altro che squalo Uhlala Si guarda dove passa Ha girato a destra Ok Ma ha rigirato a destra Ecco perché non lo trovavo No Ok Ho fatto una brutta fine ho capito Questi qua vogliono morire Eccolo lo squalo Guardalo Vai Secondo me riusciamo? Vogliamo farlo fuori ora Eh ma c'è la gente che ci mira Lollo Vai proviamoci Ok lo sto sparando Ma non si può fare tipo edge Oh Ucciso Hai preso? Eh sì Oh No ma che fa? Oh mamma mia che paura Mori Armami Due armi di ola Lollo Ok Ok Allora Dobbiamo togliere tutto quello che avevamo E prendere solo Solo le cose dello squalo Eh Sarà abbastanza complicato Giocare con queste due armi Te lo dico Lollo No no Dobbiamo andare via da qui E cercare altri squali Perché tu non puoi giocare Solo con lanciarazzi Con un colpo Tra l'altro Aspetta forse No non ce l'ho nemmeno io Sì ma ci ha dato colpi pop E colpi cecchino Con due armi totalmente diverse Ma non ho capito Sì ma sembra un troll È uno squalo troll questo Ah io ti direi Prendiamo il motoscafo E facciamoci un giro Boh Oh mamma mia Ma hanno sparato Andiamo a vedere in mare Se c'è qualche altra cosa Che ne so Siamo volati Va bene Sì Eh ora Boh Andiamo in giro Prima o poi ci sarà un altro squalo Dai Oh comunque Squalo con due armi viola Non è male È stata una bella botta di fortuna Adesso l'unico problema sarà Se noi troviamo uno squalo Lo spari con il razzo Lo spari con il razzo Eccolo Eccolo Aspetta ma se io lo sparo con questo funziona Ciao Come stai? Ciao Cosa facciamo Lollo? Aspetta vediamo se funziona Ma dove spara? Beh senti Colpito Vieni qua squaletto Hai rotto Muori Ho 50 colpi Ora che ci penso Oddio no eh Oddio no eh 28 colpi Mi puscia Mori 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 Lollo Ho finito i colpi Lollo Oh eh L'ho preso Eh Hai preso me Dai non ci credo Se giocate a fortuna E ancora non avete sentito parlare di boosteroid Siete dei pazzi Perché praticamente ne parlo ogni settimana ormai sul mio canale Dato che un sacco di persone Hanno dispositivi vecchi come computer che non gli permettono di giocare a fortuna A una qualità alta Oppure vogliono giocare a dei giochi fighissimi ma magari hanno soltanto un cellulare Boosteroid potrebbe darvi una grossa mano Ascoltatemi Praticamente attraverso questa piattaforma cloud gaming potrete accedere ai migliori giochi Ad esempio guardate vi faccio vedere scendo giù e boom GTA, Fortnite, Call of Duty Potrete giocare a questi giochi dal vostro dispositivo Ad esempio un computer vecchio senza utilizzare la sua potenza e quindi senza far scoppiare il computer Il gioco potrà essere pesante quanto volete ma tanto a voi basterà connettervi a questa piattaforma E giocare direttamente qui attraverso internet Quindi non dovrete né scaricare il gioco ma soprattutto neanche fare gli aggiornamenti Perché se ne occuperà proprio Boosteroid La considero davvero un'ottima soluzione per chi purtroppo non ha la possibilità di giocare al massimo della qualità Infatti potrete giocare a tutti i videogiochi in full HD Fatemi sapere cosa ne pensate ma soprattutto vi do 3 secondi per andare in descrizione oppure nel primo commento E cliccare sul link che vi ho condiviso Aspetto tutti quanti Abbiamo un problema Lollo Io ho finito i colpi e non so come uccide Oh voleva Aspetta lo piccono Lo piccono Ci provo Vieni qua Squalaccio che non sei altro Ma non gli facciamo niente Vabbè è possibile che dobbiamo rovinare la nostra dignità da youtuber in questo modo Mi sparano Eh no Siamo morti Fuga 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 Lollo Fuga Oh attenzione attenzione Vieni Vieni corri Forse Sali Ah Ok Ok fuga Fuga da qui E ora come cavolo facciamo a sopravvivere che non abbiamo più niente Abbiamo perso tutto per quello squalo Eh ci sparano pure dalla fattoria Eh vabbè ci seguono Io confido in dei colpi di lanciarazzo qui Ok Io sto fightando contro uno Ma lui non sa che non ho armi Ah io potrei aver preso un pompa per sbaglio Lollo vieni 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 Eh ma che faccio Non lo so Uso il pompa Provo Eh facciamo La regola Eh sì ma tanto sono morto comunque Allora piccoli squaletti Fatevi trovare E nessuno si farà male Coraggio Hai fatto una riva fantastica Eh lo so lo so Erano anni che me la preparavo Eh io ho già preso il motoscafo Che sono curioso di vedere se ce n'è qualcuno intorno alla nostra barca Anche se non credo No infatti Non c'è nessuno Allora faccio una previsione totalmente a caso Ma se andiamo qua lo troviamo In quel punto preciso Lì? Proprio lì? Sei sicuro? No però andiamo Proviamo Vediamo È una roba epica Però non penso Ah quel punto eh Lo stiamo guardando tutti e due Ci siamo Oh scherzo Ci sparano E che pizzo Non è un buon punto No 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 Mi hanno preso Sto facendo lo slalom Mi hanno beccato Mi hanno ancora beccato Ma mi prendono all'infinito Comunque intendevo lì Intendevo quel punto Ah intendevi quel punto Ok Sono mezzo morto Ma va bene così Sono mezzo morto Check Dai squaletti dai Sono letteralmente spariti dalla circolazione Non ce ne sono più Sì ma a sto punto allora io chiederei Nei commenti Se ci scrivono Magari se sanno Se gli squali compaiono in un punto preciso Oppure Eh infatti No mi sa che ho visto dei predoni Eccolo lo squalo davanti a noi Ah no Scherzavo Mannaggia Pensavo fosse uno squalo Erano delle lattine Non ho capito bene Non ce ne è manco l'ombra Ti rendi conto che abbiamo girato mezza mappa E siamo rimasti in 38 In 38 Ora vinciamo senza giocare Solo andando in giro con un motoscafo Che finirà la benzina tra poco Oddio Pensa se mettono la benzina sui motoscafetti Sarebbe fichissimo Oh che carino questo squaletto Oh finalmente Chi è che ha sparato col cecchino Lollo? Non lo so Ho paura Lollo mi hanno spena sparato Col cecchino Lollo ti hanno appena preso col cecchino Confermo Ok Allora Sto sparando lo squalo Ma io c'ho solo una mitraglietta Dove penso di andare? No Lollo Io devo lutare un pochino Vai io provo a fare lo squalo Oh Fermate Arrivo Eh servono troppi colpi Per far fuori sto coso Vieni qua Vieni qua Vai Ho tolto 23 Ok Oh yes Vieni qua Vieni qua E fai più danno da quello che vedo Ok Eh io sto andando di cattiveria col motoscafo What the Ok ci siamo Manca pochissimo Eccolo Vai vai Bello squalo Let's Bello Una sola arma No non ci credo Eh io con quest'arma faccio fuori i nemici Ora te lo dico Matti non sono nemici Come non sono nemici? Guardali E chi sono? I pretoli D'attacco di nuovo Via via Saranno di quel più grande incubo Desta stagione Sti cosi Ma non è possibile Basta Da 300 metri Stanno a spara Via 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 Allora Un nuovo squaletto per noi Ce lo potete dare O è così raro? Aspetta Io ho un'idea Se ti porò un po' qua Così Oh Ma perché? Eh Spara strano Ma perché? Cioè non posso più colpire Oh Mi prendo questo pesciolino Che può sembrare inutile Ma in realtà a me serve Bene Al momento il nostro loot È un fucile da caccia Fine Fine Io prendo Oh Bende Wow Allora Squalettini miei Fatevi trovare Prima qui in zona La fattoria Uno squalo L'avevamo trovato Gli c'è gente che fighta Secondo me È di qua Ok Andiamo a vedere subito Io qua Se lo ritroviamo là Se lo ritroviamo là Secondo me Vuol di che Sporano in punti precisi Comunque Sì è vero È vero È vero Vediamo un po' Non mi sembra di vedere Nessuno squalo Aspetta Forse la torre È stata confermata Squaletto Prova più qua Squaletto Questo non era previsto Eccolo E allora Mi hai fatto confermata Cioè Nel senso Ma perché spara a caso Questa nuova Questa nuova cosa Oh Preso Oh 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 Aia Ma non è possibile Sì Parte Quale pina devo sparare Quella in alto Eh Pensavo che funzionasse Invece No no Ehi Ehi Perché non gli sto togliendo niente Aspetta aspetta Prendo il motoscafo Oh Vieni qua Dove pensi di andare What Vieni qua Oh no Che è successo Perché non lo sto prendendo Perché non gli tolgo niente Perché non gli tolgo niente Non so che Che sta succedendo Oh no La tempesta Lollo Prendiamo l'elicottero L'elicottero Oh no 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 Mi ha preso È diventato un gioco horror Questo comunque Niente È failato Questo Questo squale è stato più bravo Di noi due Messi insieme Vieni Vieni Sbrigati Dai Carica sto turbo Ma perché non mi fa usare il turbo Lollo Non lo so Ah no Eccolo Stavo sbagliando tasto Ops Un trattore Dai Sbrigati A uscire da sta tempesta Ok Ragazzi La situazione è più complicata del previsto Altro che vincere solo con l'hut dello squalo Qui abbiamo solo un fucile da caccia ancora Ehi ma quello è uno squalo oppure un airdrop Mi sembra uno squalo in acqua Vedi Ma quello è uno squalo È vero È vero Dai però Che rottura di sca Oh dall'alto li riusciamo a vedere più facilmente Gli squali E però questa è la zona di prima dove non ce n'era nemmeno uno No Dai non è possibile che non ci siano squali ragazzi Non ci posso credere Forse si trovano di più nelle zone abitate Tipo qua Sì intorno alle città secondo me Però comunque se riusciamo a vincere Con solo fuggire da caccia è ancora più epico Ecco i muri strani che dicevo Ah ma perché ci sono dei muri messi a caso così Tutti colorati No 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 guarda là Dove stanno Io me ne vado Oh se vedi uno squalo dimmelo ovviamente Eh sì Cioè stiamo girando tutta la mappa E non ce n'è neanche uno Nemmeno uno Spara no spara no spara Aiuto Eh se ce l'abbiamo davanti E vanno bene Prova andare in alto Prova andare in alto Ce la dovremmo fare Ce la dovremmo fare Ho detto Ho detto che ce la facciamo Ok No 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 buttati No Non ti sei buttato in tempo No Di qualche mille Mi hanno preso Lo sapevo Lo sapevo Ma è stato bellissimo Oh siamo arrivati in top ten comunque Wow Che emozione Ciao Francesco Morrone Grazie mille per aver attivato l'abbonamento leggendario Benvenuto nel team Oggi è il tuo giorno In questo momento compariranno sullo schermo di video che sicuramente non avete visto Quindi cliccate su quello che preferite E noi ci vediamo in quel video Codice Mattiz nel negozio oggetti E questa challenge è impossibile Provate a farla con un vostro amico Codice Matt Codice Matt Codice Matt